Quando lui, Salvatore Petrotto, il sindaco di Racalmuto, lo scorso 23 giugno si è dimesso dalla carica al nostro telefono, ha commentato così I digati ieri comandavano a Racalmuto con le pistole e oggi comandano ancora, ma in altro modo Le mie dimissioni sono un atto responsabile che intende restituire serenità al paese Adesso un provvedimento della direzione distrettuale antimafia di Palermo viaggia E a meno di intoppi restituirà serenità a lui, l'ex sindaco del paese della ragione Sì, perché la procura di Palermo tramite Vittorio Teresi e Fernando Asaro ha depositato sulle tavolo delle giudice per rendagini preliminari del tribunale La richiesta, sono 13 pagine, di archiviazione del procedimento penale a carico di Petrotto Il professore prestato alla politica è indagato per concorso esterno all'associazione mafiosa Perché accusato dai racalmutesi, suoi concittadini, mafiosi e poi pentiti, Maurizio Digati, Beniamino Digati e Ignazio Gagliardo Petrotto come sindaco di Racalmuto dal giugno 1993 al maggio 2002 e dal maggio 2007 alla giugno 2011 Avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti della Cosa Nostra di Racalmuto Attraverso favori ripagati poi alle elezioni comunali Lui, Petrotto, si è sempre difeso, carte alla mano, sostenuto dai suoi difensori Gli avvocati Giovanni Castronovo ed Ignazio Valenza E così Teresi e Asaro nella richiesta di archiviazione scrivono, in estrema sintesi Che la condotta del sindaco Petrotto non è collegabile ad alcuna ipotesi di reato Infatti, nel codice penale italiano non vi è un articolo che sanziona il comportamento di colui che Con il proprio comportamento, anche omissivo, rafforza in altri la convinzione che lui sia a disposizione degli stessi altri Ecco il convincimento che si è formato all'interno della famiglia mafiosa di Racalmuto Verso il sindaco Petrotto Che lui fosse a disposizione E lo conferma Maurizio Digati Però mancano riscontri penalmente rilevanti Ossia impegni seri e concreti che Petrotto avrebbe assunto verso i mafiosi delle paese Salvatore Petrotto commenta Ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni ed in particolare nella magistratura E ho atteso con pazienza che i pubblici ministeri svolgessero le doverose indagini Sereno, cosciente di avere sempre combattuto la mafia e di non averla mai assecondata Mi auguro che anche l'Egipe voglia seguire la tessi della pubblica accusa Di modo che si ponga fine a questa incredibile vicenda giudiziaria Che mi ha profondamente segnato Inducendomi altresì a dimettermi dalla carica di primo cittadino di Racalmuto Per rispetto nei confronti di coloro i quali hanno riposto in me la loro fiducia Tra l'altro posto l'attenzione anche Grazie mille!